Sindaco, quali sono gli interventi previsti per Piazza del Popolo? In realtà quello di Piazza del Popolo è uno dei progetti che si inserisce in un sistema di interventi molto più corposo. Ci siamo giudicati un bando da 20 milioni di euro che ci permetterà di riqualificare completamente l'Exfera, che è uno dei poli sportivi più importanti della nostra città, frequentato giornalmente da migliaia di persone, ma che ormai cade a pezzi e che ha bisogno di un restyling complessivo. La sistemazione di via Matteotti con la realizzazione anche della pista ciclabile, la sistemazione e la riqualificazione delle case armete che hanno anche un valore storico e identitario per la nostra città e sono la sede storica delle associazioni combatantistiche d'arma, diventerà un polo completamente riqualificato anche al servizio degli studenti. E poi in Piazza del Popolo l'organizzazione di un parcheggio sotterraneo e Pordenone ha bisogno di spazi in cui parcheggiare la macchina, liberando però quelle che sono superfici nobili come quella davanti alla prefettura. 260 posti verranno appunto realizzati e in parte messi a disposizione anche di chi risiede nei dintorni e non ha il garage. E infine la realizzazione di una struttura in vetro acciaio moderna ma bellissima dinanzi al Cinema Zero per consentire ad una delle centrali culturali più prestigiose di Pordenone di poter implementare la propria attività e quindi aumentare ulteriormente l'offerta culturale di Pordenone. Grazie.